Il piano di assunzione dei 150.000 docenti precari non si esaurirà a settembre 2015, ma verrà spalmato negli anni successivi. E' questo che affermano i parlamentari del Movimento 5 Stelle che ieri hanno incontrato il Ministro Giannini. Da Roma l'On. Gianluca Vaglia. La delegazione del Movimento 5 Stelle della Commissione Cultura, Istruzione, Camera e Senato è andata a un incontro con il Ministro Giannini al Ministero per portare la nostra proposta di legge sul reclutamento. Una riforma sulla quale noi abbiamo lavorato tantissimo, coinvolgendo per due anni i comitati, i docenti, tutti coloro che hanno voluto partecipare e che prevede sostanzialmente un piano di assunzione di 300.000 docenti circa in quattro anni, grazie all'ampliamento dell'organico con la risoluzione del problema del Cassipollaio, l'abolizione di alcune cosiddette riforme della Gelmini come la compresenza nella scuola primaria, tutta una serie di norme che amplierebbe l'organico e quindi porterebbe a un piano di assunzione di 300.000 docenti in quattro anni da legare e in subordine del gradatore d'istituto, quindi assumendo appunto da tutte le gradatorie e tutti gli abilitati che sono disponibili oggi nel mondo della scuola. E' stato un incontro cordiale, il Ministro abbiamo parlato a lungo, circa per più di un'ora e abbiamo avuto anche qualche novità. La prima è che a settembre probabilmente non ci saranno 150.000 assunzioni, saranno di meno. Verrà fatto questo decreto che dovrebbe uscire tra una settimana, nella quale si parlerà di un piano di assunzioni non di un anno, quindi non tutte a settembre, ma anche negli anni successivi. E non si esaurirà la gradatoria di esaurimento, resteranno ancora probabilmente degli iscritti in GAE nell'anno prossimo, quindi quello che diceva Renzi che verrà eliminata la gradatoria di esaurimento a settembre 2015 probabilmente non sarà vero. E l'altro elemento è che il Ministero non ha ancora i dati, non ha ancora completato il censimento. Cioè ci hanno detto che non avevano ancora i numeri esatti perché non avevano ancora esaurito il censimento. Una settimana dal decreto, secondo noi, è stato francamente strano che il Ministero non abbia ancora tutti i dati, il quadro completo del fabbisogno che c'è nel mondo della scuola. Questo secondo me non è un ottimo modo di lavorare, non sono delle premesse buone per un decreto che risolverà definitivamente il problema delle nostre scuole. Ci vediamo, aspettiamo comunque il decreto nei prossimi giorni.